Musica L'argomento di questi giorni, soprattutto sollevato dall'Avvocato Lentini, presidente dell'Urdine degli Avvocati di Vallo della Lucania, la problematica che si porta avanti anche da tempo e non certamente legata all'emergenza Covid-19 della mancanza di organico presso il Tribunale stesso di Vallo della Lucania. Quindi andiamo ad incontrare i vari esponenti per realizzare questo speciale focus dedicato interamente a questo problema che attanaglia sia i coloro che lavorano presso questo Tribunale e che anche i cittadini i quali si vedono rinviare più volte le diverse cause che hanno in corso per risolvere determinati condensiosi. All'Avvocato Domenico Lentini, problematica del Tribunale di Vallo della Lucania, mancanza dell'organico, soprattutto di tanti magistrati. Lei ha sollevato e porta avanti questa battaglia affinché si possa arrivare a una giusta soluzione. Puoi spiegare meglio in questo speciale focus di quali sono innanzitutto le sue iniziative? Il Tribunale di Vallo della Lucania ha un problema strutturale che si porta avanti da decenni, il che ha comportato un accumulo di arretrato. Attualmente abbiamo sul ruolo civile oltre 8.000 cause, di cui il 50%, quindi circa 4.000 con una durata oltradecennale. Questa è una patologia per un sistema giudiziario di un paese civile, qual è l'Italia, tant'è che è previsto costituzionalmente dall'articolo 111 che il tempo della giustizia debba essere ragionevole. Parlare di più di 10 anni, a volte anche 15, 20, 30, per la risoluzione di una controversia giudiziaria sicuramente non si può parlare di tempi ragionevoli della giustizia. E' un problema strutturale. A questo poi si aggiunge un problema organizzativo, perché siccome è un tribunale di provincia, chi viene assegnato al Tribunale di Vallo della Lucania poi legittimamente aspira ad andare fuori. Quindi periodicamente abbiamo dei trasferimenti ogni 4 anni, 3 anni, e per coprire questi buchi ci vogliono dei tempi biblici. In più abbiamo avuto, non so come dire, in più sono verificati dei casi in cui dei magistrati assegnati al nostro tribunale per motivi familiari, per motivi di salute, sono stati più assenti che in servizio. Questa cosa non fa altro che aumentare l'arretrato e attualmente abbiamo un problema enorme, perché abbiamo un solo giudice che dovrebbe essere assegnato al settore civile. Il resto è un ruolo che cammina e il resto è tutto congelato, quindi aumentando ancora di più i tempi di risoluzione delle controversie. Allora noi oggi stiamo dicendo, soprattutto al Consiglio Superiore di Magistratura, al Consiglio di Disciplina, ai vertici, anche al Ministro, muovetevi perché a Vallo c'è un problema. Abbiamo fatto un concorso alcuni mesi fa per 4 posti come sede disagiata. Dei 4, 2 hanno rinunciato, hanno rinunciato tardivamente e questa rinuncia è stata accolta. È un'anomalia, però tant'è, non la vogliamo neanche andare a sindacare o di impugnare. O gli altri due, quanto ancora dobbiamo aspettare perché vengano immessi in ruolo presso il Tribunale di Vallo e Alucane? Prima domanda. Seconda domanda, c'è un concorso in atto per la nomina del Presidente di sezione della Civile, che se non vado errato, le domande sono scadute il mese di settembre 2019. In questi giorni si è saputo il nome della dottoressa che verrà probabilmente a Vallo, ma non sappiamo quando. Allora acceleriamo quantomeno queste pratiche che sono nelle fasi finali per far sì che si riempiano questi posti vacanti. Poi arriveranno i mop in tempi sempre molto molto lenti. Ma una volta che noi abbiamo la pianta organica al completo, non siamo in grado di smaltire l'arretrato. Allora dobbiamo individuare, io dico insieme, ma se no noi faremo una nostra proposta con il Consiglio dell'Ordine di Vallo della Lucania, una soluzione al problema dell'arretrato. Questa è la richiesta che noi abbiamo formulato. Io ho dovuto usare dei toni un po' duri perché mi sembra che le cose non vengano prese sul serio. Ritengo che in Italia non è possibile che ci siano tribunali dove per risolvere una questione ci si impiega 3-4 anni e tribunali dove 10 anni non sono sufficienti. Ci vuole una presa di coscienza. I italiani siamo noi cilentani, italiani saranno in Lombardia, in Veneto o in Sicilia. Quindi questa è una cosa alla quale io ci tengo. Il Consiglio Superiore della Magistratura si deve preoccupare di queste situazioni perché non è più pensabile che ci siano cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. Quindi state portando avanti ovviamente questa problematica che è legata, come ha detto lei, da tanti anni perché è legata sempre al fatto che arrivano, vengono nominati e vanno via. Un po' come succede, scusi se faccio il paragone, anche nella sanità con tante cariche e non solo. Sì, sì, il problema è lo stesso perché diciamo che Vallo è un punto di partenza. È un punto di partenza dove chi arriva come prima nomina si fa ai 4 anni. Prima erano 3, oggi in virtù di una norma sono 4, obbligatorie e poi vanno via. E poi ci vogliono tempi biblici per il problema strutturale, nel senso che trattandosi di un ambito territoriale non molto vasto, le soluzioni, per esempio il presidente del dottore Gaetano De Luca sta facendo una grossa pressione affinché venga ampliata la circoscrizione da un punto di vista territoriale. Quindi maggior bacino di utenza, maggiori cittadini, maggior numero di giudici da assegnare presso il Tribunale di Vallo e Vagano. Questa battaglia noi la sponsorizziamo, cioè anche noi faremo le nostre pressioni affinché vi sia un incremento della pianta organica, affinché vi sia un incremento della circoscrizione del Tribunale di Vallo e Vagano. Però il problema è che conosciamo i tempi della nostra nazione, non crediamo che sia più il caso di aspettare. Quindi oltre a queste soluzioni che sono strutturali c'è anche la necessità di un intervento eccezionale per smaltire la retracca, ma una volta che è stato smaltito il problema è risolto. Quindi se ci sono tribunali dove per fare una sentenza o che ogni giudice ha sul proprio ruolo 300-400 cause e a Vallo invece si parla di 1500, creiamo un equilibrio a livello nazionale, si fa una norma, si troverà un escamotage e risolviamo il problema. Dopodiché chi deve andare a Bologna? Va a Bologna e chi deve stare a Vallo e la Lucania? Sta a Vallo e la Lucania. Questa è la nostra proposta non protesta. Perché molti l'hanno vista come una protesta, però è una protesta anche giusta. Ovviamente perché a prescindere dalla mancanza dell'organica, anche un cittadino che aspetta per farsi risolvere un contenzioso con un altro cittadino, voglio dire. Perché io dico che è una proposta e non una protesta? Perché nessuno ci può dire che stiamo dicendo qualcosa di sbagliato. Cioè noi non stiamo protestando contro qualcosa o contro qualcuno. Noi stiamo dicendo a quelli che sono gli attori principali di questa vicenda, che sono i magistrati, che sono la politica, che è il Ministero della Giustizia, di collaborare per trovare una soluzione. Poi se si trova la soluzione per il Tribunale di Vallo e la Lucania, può essere utilizzata anche per altre strutture dove hanno problemi analoghi ai nostri. Quando la politica locale sta agendo per risolvere questa problematica, non per fare un'ulteriore polemica, però si stanno muovendo i politici. Perché comunque Vallo e la Lucania è stato sempre un Tribunale, anche quando era nella vecchia sede, importante, riconosciuto a livello non solo regionale, ma anche nazionale. Poi, nonostante tutto, una cittadella giudiziaria che è stata realizzata, tante le problematiche legate soprattutto al personale. Un po', dicevo con il Presidente, la stessa problematica che si ha un po' in sanità. Si hanno delle nomine, si fanno i primi anni e dopodiché uno spicchia il volo. Soprattutto quando si tratta di primi incarichi, l'ha detto pure lei. Come responsabile Codacons, è stata una mia iniziativa, ho contattato l'On. Marzia Ferraioli, che ha dato subito la sua disponibilità. Questo è un segnale di attaccamento al territorio e di rispetto per il Cilento e i Cilentani. La stessa cosa ha fatto l'On. Conte, che le sue origini, come sapete, il padre era originario di Piaggine, quindi c'era anche un attaccamento di questo genere al territorio, ma l'On. Conte è intervenuto tempestivamente subito sul problema. Devo dire di più, lui già era intervenuto su questa questione, presso il Ministro, e aveva avuto già delle rassicurazioni in passato per aumentare l'organico, intervenire sui contenziosi arretrati e quindi cercare di risolvere i problemi annosi del Tribunale. Oggi devo dire che i politici che ci rappresentano in Parlamento sono tutti a vario titolo e con i dovuti ruoli, i dovuti peso all'interno dei partiti, stanno intervenendo a favore del Tribunale. Quindi c'è un'azione sinergica di tutti i parlamentari del territorio, lo stesso Senatore Castiello, l'On. Cascello di Salerno è intervenuto, e tanti altri stanno intervenendo a vario titolo, dando solidarietà al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania. Il mio auspicio è che anche i sindaci intervengano a sostegno del territorio, del Tribunale, e oltre ai sindaci chiaramente io, va coinvolta tutta la società civile, anche l'associazionismo, insomma tutti devono intervenire. Poi come ha detto il Presidente c'è un problema di allargamento del territorio, e questo è un problema politico. Non è concepibile che alcuni comuni dell'area del Parco Nazionale del Cilento vadano in Basilicata nel Tribunale di Lago Negro per fare le cause. Questi comuni, a mio giudizio, dovrebbero essere tutti accorpati al Tribunale di Vallo come competenza, per cui anche ci sarebbe più utenza al Tribunale, si potrebbe chiedere di più organico, potrebbe aumentare l'organico, insomma potrebbe diventare un ordine più grande di quello che è, e aumenterebbero anche i numeri. Quindi questo non è un problema, è un problema politico. Ripeto, è un'anomalia. Chiaramente mi rendo anche conto che ci sono dei problemi di viabilità per la zona di Sala Consilina, per esempio dove c'era il Tribunale che poi è stato soppresso, perché lo stesso rischio poi lo passava il Tribunale di Vallo della Lucania, e non è detto che il Tribunale non venga soppresso se continuiamo in questo modo. C'è un problema, quindi stavo dicendo, di viabilità, quindi andrebbero riviste un po' le comunicazioni tra quei comuni del Vallo di Diano, del Golfo di Policastro, della zona di Sapri, insomma, e quindi poi creare un territorio che faccia capo tutto al Tribunale di Vallo della Lucania. Il Vallo della Lucania come cittadina sarebbe una cittadina dove già ospita la sede del Parco Nazionale, dove insomma ci sono una serie di servizi, e il Tribunale finalmente avrebbe quel ruolo centrale nella nostra area. E quindi avrebbe anche dignità al pari del Tribunale di Nocera, che si è ingrandito, il Tribunale di Salerno. E quindi anche noi saremmo una realtà concreta di cui tutti dovrebbero prendere, tutti dovrebbero riconoscere a un certo punto che il Tribunale di Vallo della Lucania è un Tribunale che ha sia i numeri e sia le competenze per gestire la giustizia in modo efficiente e al servizio effettivamente dei cittadini. Allora, Avvocato Pietro Di Lorenzo, anche lei ha una sua considerazione in merito a questa problematica legata alla mancanza dell'organico presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Il Presidente, l'Avvocato Nentini, ha esposto largamente questa problematica con eventuali soluzioni, la sua valutazione in merito a questo problema. La mia vuole essere soltanto una chiosa perché il mio Presidente è stato molto specifico, molto bravo, molto concreto nell'esprimere i momenti concreti che stiamo ponendo in essere. È chiaro che il Presidente, il mio Presidente Domenico Lentini, ha posto in evidenza un accendo due termini. Lui ha parlato non di contrapposizione, non vogliamo andare a creare un bellum, come dicevano i latini, una guerra, ma soltanto una venticatio. Vogliamo riventicare quello che è un principio sacro, indissolubile e inderogabile. La voce della giustizia, la esigenza della giustizia, la tutela inderogabile della giustizia. La mia cosa la faccio raccontando un episodio che vuole un poco riassumere tutta questa vicenda. L'altro giorno, qualche giorno fa, mentre mi recavo in debbolale, vedevo il mio Presidente del Tribunale, Gaetano De Luca, assorto nei suoi pensieri, perché è un uomo di, oltre di pensiero, ma fortemente concreto, e sta vivendo con passione, ma anche con grande dolore. Quasi un prezium doloris questa mancanza, tra virgolette, di giustizia. E mentre lo guardavo, perché devo premettere una persona che io ammiro tantissimo, perché cilentano, ma che sente l'odore della terra del cilento, che è quello, il vero cilentano, mi veniva in mente uno studio di tanti anni fa, una frase di un grande poeta latino. Io dirò prima quella frase che diceva. Marco Tullio Cicerone diceva che non esiste una libertà assoluta, perché la libertà assoluta sarebbe un arbitrio, ma essere schiavi, tra virgolette, delle leggi è la possibilità per essere liberi. È una fase emblematica, perché in quel momento il Presidente, nel suo cammino, nel dettato del suo cammino, invocava le leggi, soprattutto per ridestare le persone e per riportarli in quella che è la vera libertà, non nella libertà quale arbitro, ma la libertà vera è quella che si ottiene in ossequio alle leggi. E questa mi vende quasi da commuovere quando pensavo a questa, perché noi dobbiamo percepire la legge non come sistema meramente imperativistico, ma percepire la legge come soluzione e possibilità per avere la vera libertà. In realtà tutte le altre cose in concreto che sono state fatte, che il mio Presidente ha dettagliato, partono da questo principio. Noi vogliamo solamente far capire che qui le libertà li vogliamo attingere come fanno tutti in Italia e avere la possibilità di godere delle vere libertà attraverso il percorso della giustizia, di una giustizia serena, di una giustizia simmetrica, di una giustizia che non deve vivere di impeti, perché la giustizia non vive di impetri, la giustizia non vive di sussulti, la giustizia vive di un percorso unico che declama regole fisse, certe ed uguali per tutti, uguali per tutti, uguali per tutti i territori, in modo che questa giustizia sia la giustizia non del Cilento, ma la giustizia di un'intera Italia. Un'ultima cosa, appunto, come ha messo in evidenza anche l'Avvocato Lentini, non ci possono essere cittadini di serie A e serie B e quindi territori, ma in questo non per... la politica locale cosa sta facendo? Non per creare una polemica oltre, assolutamente, perché dipende molto dagli organi centrali, quindi la magistratura, il governo centrale, ok, però quando si stanno muovendo le realtà politiche del territorio per risolvere questa problematica? C'è un interesse oppure, come capita molte volte, non è una polemica, però una considerazione? In questa sede non sto, per carità, a fare giaccuso, non voglio prendere posizioni politiche, non mi permettere, ora siamo in un terreno di neutralità, saluta, di terzietà rispetto alle vicende politiche, però io devo dire, con molta onestà, che i nostri politici i passi li stanno muovendo. Noi abbiamo un senatore della Repubblica, che conosciamo tutti, il professor senatore Castiello, che veramente, come il nostro Presidente, ha a cuore e sta muovendo i suoi passi. Però abbiamo lo stesso Simone Valiante, ex deputato, tiene a cuore, però noi sappiamo benissimo che soltanto da una piccola fiamma può nascere un grande incendio. Qui nasce la piccola fiamma. Il grande incendio è questa voce che stanno raccogliendo le altre voci politiche molto forti, la professoressa Ferraioli, il deputato Conte, lo stesso Castiello, stanno prendendo a cuore questa vicenda. Ma non tanto per crearsi quel segmento di politicità o quel terreno di politica a Vallo, ma io credo che lo fanno veramente perché hanno capito che a Vallo c'è una sede di giustizia e non un ricurgito di giustizia. Sono due parole in conto. Qua non c'è il ricurgito di giustizia, ma sede di giustizia. Perché finché c'è sede significa che c'è una voglia di libertà. Quando c'è il ricurgito la libertà sta già finendo.